C'è Luca Di Renzo, Presidente dell'Associazione Il Comune delle Idee. Siamo qui nell'aula magna dell'Istituto Professionale di Ortona, dove ha avuto inizio il ciclo di incontri su cittadini consapevoli. Un'iniziativa presa dall'Associazione. Quali sono le finalità di questo ciclo di incontri, Presidente? Questi incontri sono nati dall'esigenza che i nostri soci ci hanno esternato sulla conoscenza della macchina amministrativa, dovuto al fatto che molto spesso anche noi stessi siamo protagonisti di critiche verso i nostri amministratori che non sono adeguatamente supportati da una conoscenza di quelli che sono i meccanismi. Quindi questo corso nasce proprio affinché conosciamo e approfondiamo tecnicamente quelle che sono le possibilità, le capacità che i nostri amministratori hanno e le motivazioni per cui i nostri amministratori prendono o non prendono taluni provvedimenti. In questo senso noi continueremo con questa opera di consapevolezza e di approfondimento per far sì che le scelte siano condivise perché si ha a che fare con dei cittadini che pretendono e sanno come va la macchina amministrativa. È un corso che ha avuto tantissime adesioni anche da fuori di Ortona. La cosa bella è che questo corso, come avete potuto vedere da questo primo incontro, è stato molto partecipato e soprattutto i partecipanti hanno avuto un'attenzione sempre continua nonostante la materia non fosse propriamente leggera ma soprattutto abbiamo avuto adesioni anche da persone che non sono associate con la nostra associazione quindi non sono dei soci ma sono dei simpatizzi o si sono avvicinati proprio perché la politica della nostra associazione prevede degli incontri che non abbiano una natura ideologica ma prettamente tecnica. Dottoressa Elena Carinci, vicepresidente dell'associazione Il Comune delle Idee, è stata la coordinatrice di questo primo incontro dove è intervenuto anche il dottor Angelo Zaccagnini, magistrato, che ha parlato della responsabilità della pubblica amministrazione. Dottoressa Carinci, ci può sintetizzare come è andato questo incontro? Sì, in questo primo incontro il dottor Zaccagnini ha innanzitutto evidenziato i principi della pubblica amministrazione quindi il principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza e per poi passare a illustrarci i principi e il disposto normativo della legge 241 del 1990 è stato molto interessante anche perché ha dato proprio i primi strumenti attraverso cui i cittadini possono avvicinarsi quindi alla macchina burocrativa, alla pubblica amministrazione e al dipendente quindi illustrando il diritto di accesso, il silenzio assenso, il silenzio rigetto tutti i casi in cui il dipendente quindi si interfaccia con il cittadino Quindi una norma che praticamente mette il cittadino ad essere consapevole delle proprie responsabilità? Sì, certo, in questo incontro il cittadino ha avuto modo di prendere atto di vedere quali sono i suoi diritti di fronte alla pubblica amministrazione che strumenti può anche utilizzare? Leo Castiglione, consigliere comunale indipendente, promotore dell'Associazione Comune delle Idee sei soddisfatto della partecipazione che ha avuto questo corso? Certamente, il primo corso che questa associazione promuove sul rendere i cittadini consapevoli del funzionamento della pubblica amministrazione che ha visto una notevole partecipazione, più di 130 iscritti e questo veramente ci motiva ancora di più nel promuovere simili iniziative Quindi c'è bisogno di partecipazione civica qui in città d'Ortona? Io credo che bisogna ricreare un collegamento, un collante tra i cittadini e la pubblica amministrazione Certamente, proprio questa sera, il dottor Zaccagnini ci ha illustrato in un modo molto chiaro e lineare le linee guida della legge della 241 del 1990 che dal 1990 ha stravolto il ruolo del cittadino verso la pubblica amministrazione e credo che però bisogna fare ancora tanto C'è molta, diciamo, certe normative, certe possibilità che i cittadini hanno di avvicinarsi appunto per conoscere i procedimenti amministrativi non sono ancora conosciuti quindi ben vengano simili iniziative e credo che l'associazionismo abbia un ruolo fondamentale insieme anche ai partiti politici, a chi amministra appunto una città Un corso realizzato in questo periodo non rischia di apparire come un'attività preelettorale? Assolutamente no Lo statuto dell'associazione prevede tra le proprie finalità la formazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini nella vita pubblica oltre che all'impegno politico ma apartitico quindi credo che questa iniziativa rientri pienamente nell'ambito di queste tre finalità inoltre va anche ricordato a testimonianza appunto che non possiamo parlare di strumentalizzazioni che l'associazione del comune delle idee è stata l'unica associazione in città che ha promosso un convegno per conoscere, per informare, per far conoscere, per informare i cittadini sui contenuti del referendum costituzionale che c'è stato appunto nel recente mese di dicembre quindi credo che ben vengano queste iniziative soprattutto da parte delle associazioni